Negli antichi tempi, come erano i preparativi di molti matrimoni a Celle San Vito, borgo più piccolo della Puglia, una rappresentazione dove i personaggi rievocano ciò che succedeva tra le famiglie, il tutto nell'antica lingua franco-provenzale. Insomma, questa rappresentazione itinerante che ha come tema il matrimonio degli anni 60-70, ha come tema questo matrimonio e tutta la recita verrà fatta in lingua franco-provenzale. Io sono la sposa, Rusanel, e lui è il mio marito. Io sono Peppinello e sono il marito che ha conquistato la sposa in chiesa tramite un occhiolino che per la sposa sembrava più che altro un tic all'occhio. E da lì nasce questa storia d'amore fantastica in cui i due si conosceranno e viveranno la loro vita felice. Praticamente è una rappresentazione dove la maggior parte delle battute sono tutte improvvisate, quindi non c'è una base di copione, non ci sono state delle prove severe oppure perfette e quindi ci scusiamo per qualsiasi imperfezione ma fa parte della creatività.